Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti Oggi andiamo a parlare del circuito chiamato Autodromo International de Curitiba Oggi parleremo dei circuiti del Brasile che comunque sono solamente due Questa è la mappa del circuito La Autodromo International de Curitiba, conosciuto anche come Autodromo de Pimma, Pinais O circuito Raul Boesel È un autodromo situato nell'area metropolitana di Curitiba, nel comune di Pinais Può ospitare fino a 30.000 persone a sedere Su questo tracciato condono regolarmente diverse categorie Come il campionato brasiliano di Stokkar La Formula Track La Copa Turismo GNV La Pick-Up Racing Il campionato Paraneaense de Arancada Il trofeo Maserati Il campionato Paraneaense di Moto Veloci e Dade Le Copas Turismo Prima A e N Come categorie internazionali ha spiegato la World Series by Renault Storia La costruzione dell'autodromo inizia nel 1965 fu terminata nel 1967 Si trattava di un circuito ovale con tre curve e di 2.7 km di lunghezza Quando furono ospitate le prime competizioni di automobilismo, motociclismo e anche ciclismo In quell'epoca il circuito era chiamato Autodromo di Pinais Caratteristiche del circuito Si tratta di un circuito con le strutture più moderne del Brasile dopo Interlagos Nella sua attuale configurazione, l'autodromo è omologato per ospitare corse gestite dalla CBA Inoltre soddisfa gli stanna della FIA e può quindi ospitare anche corsi di categoria mondiale A casa delle sue infrastrutture moderne e sicure è classificato come uno dei migliori circuiti del mondo Il circuito è largo 15 metri Il dislivello massimo presentato dal circuito è di 4 metri Circuto semi-ovale, circuito ovale lungo 2550 metri Circuto misto presenta 7 curve a destra e 4 a sinistra Il rettilineo è lungo 980 metri Mentre la lunghezza dotata della pista è 3695 metri Le curve S de Baiza, sequenza di curve a S alla fine del rettilineo iniziale dopo una forte frenata Giancao, è una curva a destra con due punti di corda che generalmente si fa in piena accelerazione Pinerino, la più tecnica di tutte le curve, a sinistra con un raggio doppio a bassa velocità S de alta, una sequenza a forma di S con un raggio lungo Che generalmente si fa in piena accelerazione, in discesa e con scassa visibilità Vittoria È una curva che prevede il lungo rettilineo, con un lungo raggio e che si percorre ad alta velocità Il rego di ciascuna di categoria Questo non lo leggo, però lo faccio vedere Va bene, questa è la storia del circuito a Totomo in Danesan de Curitiba Se il video vi è piaciuto, come sempre, mi lasciate un bel mi piace Per questo video è tutto e noi ci vediamo, alla prossima Ciao Ciao